Sindaco, ma è ancora in Baruffa con Ormelle? Beh, è una storia che va avanti da luglio 2020. Potremmo definirla la Baruffa per la spazzatrice, quella che sta continuando tra i comuni di Cimadolmo e Ormelle. E stando alle parole che sanno essere pietre, quelle scagliate dal sindaco ministeri sono piuttosto pesanti. Come vi conoscete sono terra terra, è una questione di invidia, è una questione di poca correttezza, poca visione di quello che deve essere il futuro per quanto riguardano le intere comunità, specialmente comunità che stanno vicine. Siamo incontenziosi sia per la polizia locale, anche per la spazzatrice che metà e di Cimadolmo non la vogliono restituire. Un macchinario acquistato a metà con Ormelle che vanta manutenzioni per 10.000 euro, a loro dire mai versate dal paese dell'Asparago. Ministeri si rivolge direttamente alla quale sindaco Andrea Manente, suggerendogli di chiedere conto non a lui ma al suo predecessore Sebastiano Giangravè. Non mi è mai successo in 15 anni di amministrazione, in 35 anni di lavoro che ho fatto per la pubblica amministrazione, c'è trovare situazioni di sto genere. Sindaco che non solo rilancia sulle manutenzioni ma raddoppia il carico di critiche, tirando dentro anche San Polo e il relativo giovane sindaco Nicola Fantuzzi. Il buonsenso dice che dopo che sei anni Cimadolmo ha mantenuto con la polizia locale Ormelle e San Polo, creando un sistema di visosorveglianza che era il fiore rocchiello per tutta l'Italia, creando percorsi di fibra ottica e cercando di cambiare completamente il mondo, oggi mi si viene a dire e vengono a chiedere soldi che non gli spettano, non gli competono. Perché alla fine il Ministeri svela che il vero contenzioso sarebbe sui soldi delle multe. La gestione della polizia locale dipende dai tre comuni. Ogni comune ha il sacrosanto dovere, di quando assume anche le sanzioni amministrative, perché questa è la base del contesto, di mettere a cantonale alcune somme che giustamente non riserva stata la provincia. Cioè Cimadolmo non può dare 360 mila euro di sanzioni amministrative in sei anni e pagare pure il 30% di sanzione dovuta alla provincia. Intanto però la spazzatrice resta a Ormelle, almeno fino alla prossima puntata. Grazie.